Antonino Cannavacciolo è tornato più severo e affamato di prima Fa schifo Molti sono i porti e le tradizioni da scoprire La pescatora povera Brandacogliui Che dicevano? Come si dice? Tanti sono i nuovi sfidanti travestiti da chef E quando mai ho detto il latte? Io l'ho detto il latte